Pacchetto numero 14 Ciao, siete ancora alla ricerca del regalo perfetto? Eccoci, siamo Margherita e Giulia e abbiamo un sogno nel pacchetto per tutte le bambine che amano le principesse Disney e il mondo Disney Frozen come noi Ciao, è arrivato un messaggio Mia figlia Asia è una grande fan di Anna ed Elsa e ama avere tutto a portata di mano anche quando siamo fuori a passeggiare Vorrei trovare il regalo giusto per lei Pacco pacco del mio Natale Ecco il regalo perfetto per tutto con sé portare Oltre ad essere utilissime, le borse Seven di Disney Frozen danno anche un tocco unico al tuo look Con questo regalo Asia potrà passeggiare con eleganza ma soprattutto con tutto ciò che le serve Ecco qui, Desiderio Express in arrivo Ci vediamo al prossimo sogno nel pacchetto Ciao Pacchetto numero 15 La mia amica Chiara adora giocare ad essere una principessa Disney Vorrei farle un regalo all'altezza della sua fantasia Pacco pacco del mio Natale Ecco il regalo perfetto per sentirsi speciale Il Fragrance Gift Set Sodico delle principesse Disney è composto da un profumo, un bagno schiuma e un meraviglioso regalo Con questo dono Chiara potrà coccolarsi come una vera principessa Disney conquistando tutti con un profumo da favola Ecco qui, Desiderio Express in arrivo Ci vediamo al prossimo sogno nel pacchetto Ciao! Pacchetto numero 16 Mia sorella Vittoria pensa sempre al regno di Arendelle Vorrei un regalo che la facesse sentire parte del magico mondo di Disney Frozen Pacco pacco del mio Natale Ecco il regalo perfetto per... Vivere una favola glaciale! Il completo ornetta di Disney Frozen ha una maglia coloratissima con el sedanna e una gonnellina piena di balze Poi c'è il pigiama sabor che è caldissimo come un abbraccio di Olaf Con questo dono basterà un'occhiata allo specchio perché ha da pulsarsi nelle atmosfere del regno di ghiaccio Ecco qui, Desiderio Express in arrivo Ci vediamo al prossimo sogno nel pacchetto Ciao! Pacchetto numero 17 Mia cugina Serena adora stare seduta sul letto a leggere le storie di Disney Frozen Vorrei regalarle qualcosa per farla sentire come se fosse ad Arendelle Pacco pacco del mio Natale Ecco il regalo perfetto per trasformare il letto in un reame Il copre più o meno che ha le F di Disney Frozen è caldo, morbidissimo e super colorato e ci sono sia Elsa che Anna Con questo regalo il letto di Serena sembrerà un regno incantato dove le storie di Elsa ed Anna diventeranno ancora più belle Ecco qui, Desiderio Express in arrivo Ci vediamo al prossimo sogno nel pacchetto Ciao!